Tanti registi esordienti del cinema italiano si sono dati appuntamento dall'8 al 15 luglio a Roseto per la 23esima edizione di Roseto Opera Prima, il festival cinematografico ideato dal regista Tonino Valeri in collaborazione con Mario Giunco. La Kermesse è dedicata, come detto, ai registi esordienti del cinema italiano e rappresenta uno degli eventi istituzionali più importanti del cartellone estivo 2018 di Roseto degli Abruzzi. L'edizione di quest'anno ha l'ambizione di essere innovativa rispetto alle precedenti, elevando a livello nazionale la comunicazione e il brand della città e del suo festival. Tanti infatti i volti noti del mondo del cinema e della tv nazionale e internazionale, ospiti del festival da Valeria Marini a Clayton Norcross, da Eva Grimaldi a Giovanni Ciacci e a tantissimi altri. In totale sono sette i film in concorso, selezionati per garantire una pluralità di genere, e poi c'è il film fuori concorso per la serata finale. Tutti giudicati dalla giuria, pronta a valutare le opere prime dell'anno. Abbiamo tantissimi ospiti, questi ospiti a differenza degli altri anni non saranno un mordi e fuggi, ma sono ospiti che interagiscono con la cittadinanza. Altre novità è che Roseto Opera Prima esce da questa piazza della Repubblica. Dopo tanti anni si hanno pensato di fare qualcosa di diverso, anche per i giovani. Tanto che abbiamo l'ultima sera, presso Lido La Bussola, abbiamo Opera Prima On The Beach, con due DJ. Poi abbiamo anche un corner culturale, perché presso in Caffè Salotto la presentazione dei libri. Quindi veramente Roseto Opera Prima, cultura e turismo. Abbiamo cercato di non concentrare, ma di diluire tutto questo popo di attori durante tutte le sere del festival. La cosa importante secondo me è il format che cambia. Il format che cambia perché è sicuramente basato sul cinema, ma il cinema in senso allargato. Quindi abbiamo cercato di inserire dentro le estemporanee di arte sul cinema, abbiamo cercato di inserire dentro degli eventi per i giovani. Quindi l'Opera Prima On The Beach, fatto sulla spiaggia, dove saranno presenti anche gli influencer, il premio per i migliori influencer dell'anno. Nello stesso tempo quello che stiamo cercando di fare invece è anche ampliarci al mondo dei libri. Quindi con una serie di iniziative nel pomeriggio che sosterranno appunto questa manifestazione.